Musica Salve a tutti ragazzi, bentornati qui a un nuovo episodio di The Wolf Among Us In questa parte scopriremo che cosa ha da dirci la cara e vecchia Nerissa Dunque, riprendiamo gioco Episodio 4 Travestito d'agnello Ciao Nerissa, oh mio dio che succede alla tua borsa? Ciao Nerissa Ma perché c'è sempre questa tipo atmosfera soft di... non so... di... Ehm... Pum, ehm... non so se mi spiego Tipo come se lei ci stesse sempre... se tutte le donne ci stessero provando con lui O fossimo più o meno lì, in quel territorio più o meno Sono stato bucherellato come uno scuola pasta Vabbè, non preoccuparti Vabbè, sono stato meglio, diciamocelo Già E sfumiamo ovviamente perché... bucherellati... perché non provare a fumare con tutti quei buchi che abbiamo Sentiamo È il sortilegio Ma quanto pare... a me... Ok... Ehm... no... Si tratta... Dì la verità, c'è qualcosa Eh... è il suo... è tutto quello che fa girare il giro E quello che faccio dall'inizio, vorrei far notare Erano le sue amiche, poverina Si tratta di... Ma perché? E tu vuoi... So I hope you're looking after yours Oh Are you? Look around you It's my job to look out for people And not just my friends I'm sorry I thought I could do this Ah, niente da fare I need you to know I want to help, but... Non puoi Le tue labbra sono sigillate But your lips are sealed Eh, cazzarola I'm... Sorry if I'm wasting your time I thought I knew how to say it Ribbons Nasty Eh? Do you like it? Hmm? Do you? I'm trying to help I just don't know what I can do That's why you can't tell me anything It's the ribbon, isn't it? C'è qualche... Eh... Ah, è il nastro che... Su cui c'è il sortilegio E beh, giustamente le corde vocali Ha senso Ah... Che bastardi Come un guinzaglio Porca miseria Sei spaventata tantissimo Oh, forse ho capito So the ribbons If you take them off Mi dispiace Sorry I wish I could do something Avrei potuto fare con Fortala Eh... Esagerata Già, infatti Non credo che... Perché? Scusate l'interruzione Andiamo avanti Wow Questa inferma immagine è fantastico Proprio come dire Oh mio Dio Ti ho beccato, stronzo Ah, ah, ah Ah, ah, ah Sorry I just need to talk to the sheriff for a moment Please excuse us One minute I might have a new lead for you But I don't know how solid it is Ok Beauty and Beast called the office just now Beh, loro hanno a che fare con Panko Pinco I wonder if they've heard about Crane Thank you for listening, Sheriff You should go onto your next business Ok Vuole aiutare Sentite, io non mi fido Non dico a nessuno Per quanto ne posso sapere Potrebbero averla sostituita Mi ha detto abbastanza She told me enough I think she told both of us With the way she just left Ok then Good work So about Beauty and Beast Do you think there's something to it? Is this the right place to love? Eh, boh Avranno chiamato una Nerissa Effettivamente lei ha fatto un cenno Sì, infatti quando li ha pronunciati Infatti ha avuto una specie di Già Eh già La sappiamo tutti la storia Nella terza l'abbiamo capita Assolutamente Allora Bene Hello E così ci divediamo Interessante gente Interessante Molte cose interessanti Molte cose interessanti Bene gente Finiamola qui Ci rivediamo Nella prossima parte Eh Ci rivediamo Nella prossima parte In cui succede Scopriremo perché Loro due stanno litigando Se vi è piaciuta questa parte Ci rivediamo Nella prossima parte E Yahoo Mettete un mi piace Un commento Yahoo Nella prossima parte